In questa schumacherissima avventura abbiamo visitato Siena, visitato Pisa, ho avuto anche tempo di farmi un selfie qui alla torre, visitato Firenze con tutte le sue meravigliose bellezze e soprattutto abbiamo partecipato a Lucca Comics. La state riconoscendo? Eh già, è proprio lei, il cosplay di Frida. Ciao Dante, beh direi che qualcuna qui non si è lasciata ingannare. Grazie a tutti. Biancaneve non ci casca due volte. Beh, un altro tipo di mela. E se la storia fosse andata così? Biancaneve, ma dove corri? Il bagno non è in quella direzione. La mattinata dell'ultimo giorno l'abbiamo trascorsa a Firenze, tappa doverosa e dopo un bel pranzetto messicano siamo ripartiti alla volta di Roma. Il maialino ci vuole di nuovo a Firenze? Beh, mi sembra il minimo. È giunto il momento di salutarsi. Vi lascio qualche ripresa fatta a Firenze. Mi raccomando, lasciate un like e condividete questo video se vi è piaciuto. Alla prossima!